La storia è quella di un santo che decise di rinunciare al titolo di futuro marchese e ad una vita agiata per dedicarsi completamente agli ultimi, passando dalla voglia di divenire gesuita sino alla morte a soli 23 anni per le conseguenze di una malattia infettiva che a fine 1500 provocò moltissimi decessi. Un santo, Luigi Gonzaga, che è stato ricordato con passione ed animosità ieri sera nel giorno a lui dedicato dalla Chiesa Cattolica, nel giorno del sostizio d'estate, nel giorno in cui anche la parrocchia a lui dedicata, cioè quella costruita alle pendici di Castel del Monte, ha deciso di festeggiarlo praticamente per la prima volta, nel giorno in cui anche il vescovo della diocesi Monsignor Luigi Manzi, che non è voluto mancare all'appuntamento, ha festeggiato il suo onomastico. Questa sera onoriamo San Luigi, che è il titolare della parrocchia. Con grande gioia ci poniamo a confronto con questa bella figura di santità, che è appunto Luigi Gonzaga, che è vissuto in altri tempi, certo, ma che ha tanto da insegnare anche a questi tempi, con la testimonianza di fede e di dedizione che lui ha dato nell'obbedienza al Vangelo e nell'obbedienza all'impegno di servire i fratelli, soprattutto i più poveri, diseredati, gli ammalati. Generalmente la festa parrocchiale è quella di fine agosto dedicata a Santa Maria del Monte, un culto, questo antichissimo, che ha ripreso vigore ancora di più negli ultimi decenni in un luogo solitamente frequentato da turisti o residenti stagionali. Ma da quest'anno il neoparroco Don Riccardo Agresti ha voluto avviare l'attività estiva della parrocchia, proprio partendo dalla figura del santo a cui la chiesa è dedicata. San Luigi ha infatti scelto di abbracciare la sofferenza dei giovani ultimi, un aspetto questo di particolare importanza se si considera la voglia e la necessità di costruire comunità in un cammino verso la maturità della fede. In tutte le comunità parrocchiali, immagino del mondo, ma soprattutto quelle di Andria, durante il periodo estivo non va in vacanza la parrocchia, ma qui in modo particolare perché si riunisce la gente ai piedi del castello e nelle proprie ville, per cui abbiamo pensato questo ricco programma estivo e un po' per supplire quello che è carente nella nostra città. Forse per la prima volta mancherà qualche cosa di importante. Noi non l'abbiamo fatto per questo, ma l'abbiamo fatto perché in questa comunità vogliamo vivacizzarla attraverso gli incontri culturali e spirituali. Quindi io dico alla gente venite a Castel del Monte, vi prendete una boccata d'aria bella, refrigeria, ma nello stesso tempo troverete anche dei momenti di alta cultura.